Questa settimana ho recensito il 9800X3D, una CPU che è stata acclamata dalla critica come una delle migliori dei tempi recenti, superando di circa l'8% medio quelle che sono le prestazioni del 7800X3D. Ma ovviamente è anche una CPU abbastanza controversa, in quanto queste analisi sono quasi tutte in 1080p e sfruttando delle GPU titaniche come per esempio la 4090 o la 7900XTX, quando ovviamente un processore da 539,99€ verrà abbinato a configurazioni che possano seguire il 1440p avanzato o il 4K, senza nessun problema anche con l'utilizzo del ray tracing. Quindi la domanda che sorge spontanea è AMD sta facendo tanto marketing, facendo vedere attraverso anche i recensori che questo processore performi così bene. Ok, questa è la domanda, io provo a darvi la mia risposta estesa con dati alla mano e tutto quanto nella mia esperienza dopo aver giocato per un anno col 7800X3D, partendo da un'affermazione molto semplice. Se avete una CPU che vi soddisfa non avete bisogno di fare upgrade, ma soprattutto se avete un 7800X3D perché vi state chiedendo se valga la pena comprare 9800X3D? Cioè avete già una CPU della madonna, una cosa veramente incredibile. Cioè ma anche se avete un 14700K, un 14900K, un 14600K, ma non siete a posto oggettivamente parlando, ma giocate in 1440p e state tranquilli che la maggior parte di voi ha monitor 144Hz secondo un'analisi di survey di Steam. C'è proprio un 1% che potrebbe pensare a questa cosa, ma neanche, probabilmente un 1% dell'1% in Italia. Partiamo da questo presupposto, ma andiamo a fare un'analisi completa per rispondere a questa domanda. Punto numero 1, percezione. Ovvero, quando esce un nuovo processore, un nuovo componente in generale, escono una marea di recensioni, tra testate anglofone, canali YouTube, noi in Italia, io però, di GXAD, di tutti quanti, no? E allora cosa succede? Molte persone guardano una recensione e se quella recensione magari è bella approfondita, come magari le mie ci tengo a dire, o quella dei ragazzi, insomma, probabilmente è difficile che ne guardi un'altra. Questo crea un bias percettivo che non è colpa del recensore, ma semplicemente c'è un insieme di fattori che messi insieme crea una variabile. Cosa intendo? Semplicemente ogni recensore ha a disposizione una suite di giochi e di programmi e di intenzioni di test che vuole proporre al proprio pubblico perché, dalla sua esperienza, ritiene che quelli siano più o meno i programmi utili. Il problema di variabili che si pone qui è che, in base alla suite, avremo delle prestazioni più o meno buone. Vi faccio un esempio. Se prendiamo la mia recensione del 9800X3D, in 1080p possiamo vedere come questo processore, nell'ambito del gaming, performi circa un 9.3% o meglio rispetto al 7800X3D. Se però prendiamo la recensione di Tech Power Up, potete vedere come dal 9800X3D al 7800X3D nel loro caso il margine sia nettamente inferiore, un 50% inferiore rispetto al mio, non totale ma relativo, con un 95.9% di prestazione del 7800X3D, cosa che ovviamente pone l'accento su come la sua suite abbia influito positivamente o negativamente nel poter analizzare queste differenze. C'è da dire che Tech Power Up, per esempio, in questo caso, ha un roster di cavalli di battaglia che latitano un pochettino nel confronti dei giochi più moderni. Utilizzano da sempre tanti giochi perché poi, come potete vedere qui, hanno un'analisi che possono ripetere all'infinito e proporci, appunto, una lista così lunga di processori che scendono fino a processori di 5, 6, 7, 8 generazioni fa. Ed effettivamente, c'è il 2700X per dirvi, devono togliere processori per riuscire a mettere i nuovi. E questo è incredibile, però al tempo stesso crea un bias percettivo verso i processori più nuovi. Se prendiamo, per esempio, l'analisi di questo ragazzo che apprezzo moltissimo, che si chiama Ancient Gameplays, lui l'ha fatta con la 7900XDX e, come potete vedere, effettivamente la sua analisi riporta un incremento prestazionale tra il 14.4 e il 17% per quanto riguarda effettivamente il processore, tra il 7800X3D e il 9800X3D. Cioè, è tantissimo! Se prendi il 17% è quasi il doppio della mia e oltre tre volte quella di TechPowerUp. Questo per farvi capire quanto la suite di un recensore possa influire negativamente o positivamente nella percezione di un prodotto, buono o cattivo che sia. Questo anche soltanto per dirvi che se aveste guardato la mia recensione, quella di Ancient e quella di TechPowerUp, praticamente la media sarebbe stata più verso di me che verso lui o verso l'altro. Non che gli altri siano sbagliati, ma semplicemente ognuno sceglie i propri giochi e crea un bias percettivo. Ma è normale, non possiamo fare un'analisi di tutti i giochi esistenti. Sarebbe assurdo, dispendioso in termini di tempi, ma anche abbastanza inutile. Crea un'ottima base scientifica, ma fare 40 giochi è roba da hardware unboxed, che ha 47 tester nascosti ed effettivamente se li può pagare tutti perché hanno un CPM altissimo, guadagni assurdi, sono in Australia, un altro discorso. Tuttavia TechPowerUp ci fornisce un'analisi molto importante e possiamo vedere come al crescere della risoluzione, effettivamente, il margine di guadagno del 9800X3D, per esempio in 1440p, diminuisca. Con praticamente già dimezzate le prestazioni in questa prima risoluzione e invece pressoché identiche in 4K. Ha ragione? Questo è un discorso che già io vi avevo fatto qualche tempo fa con, appunto, una mia analisi ad hoc delle prestazioni dei processori all'aumentare delle risoluzioni. Il concetto, ragazzi, è che sì, avete ragione, all'aumentare delle risoluzioni i processori iniziano ad assomigliarsi un po' tutti, ma anche qui c'è un bias percettivo, ovvero una piccola variabile che secondo me bisogna mettere in analisi. Prima di tutto, quando noi facciamo le suite dei giochi, utilizziamo sempre gli stessi giochi e facciamo semplicemente aumentare la risoluzione. Oltretutto, l'ho segnato, me l'avete chiesto, nelle prossime recensioni dei processori proverò, se c'è abbastanza tempo, perché in Italia è un casino, a inserire il 1440p e 4K. Ad ogni modo, quello che facciamo noi è prendere gioco X che magari fa 180 fps in 1080p, 120 fps in 1440p e 60 fps in 4K. All'aumentare della risoluzione diminuiscono gli fps, ed è questa la parte realmente importante. Il processore perde carico perché ha meno fps da gestire, ma siccome siamo in una fase di cambio generazionale dove le schede video di fascia alta inizieranno ad abbassarsi e quindi le future andranno a sostituirle prendendo il loro piano prestazionale ad un costo, si spera, inferiore, e quindi magari la 4090 diventerà la nuova 5080, la 4080 diventerà la nuova 5070, si spera 5060T, per una questione di movimento di mercato. Però in generale le prestazioni si abbasseranno e gli fps, 1440p e 4K, tenderanno ad alzarsi. E questo vuol dire che il carico del processore tornerà ad avere importanza, perché in questo momento il 4K è ancora una risoluzione un pochettino particolare, una risoluzione che ancora non stiamo esplorando al 100%. Sono appena arrivati i monitor 4K a 240Hz. Questo è un mondo ancora che dobbiamo approcciare, quindi c'è una mezza verità. Mentre sì, i 1080p si vedranno dei margini più alti, quando il 4K e il 1440p saranno i nuovi 1080p, cioè i nuovi standard di mercato con alti fps e tutto quanto, probabilmente i processori guadagneranno di nuovo importanza e poi faremo lo stesso discorso con ma in 8K ha senso prendere processori così potenti, ma in 16K ha senso prendere processori così potenti. Andremo avanti all'infinito con questa discussione. Succede dai tempi del 720p e 1080p fino ad oggi. Semplicemente c'è stato il 1080p che ha stagnato tanto il mercato e adesso pian piano viene sostituito. Quindi giustamente fate queste domande ed è importantissimo. Al tempo stesso, ragazzi, c'è da citare due tecnologie che sono arrivate di recente sul mercato. L'upscaling da una parte e il retracing dall'altra. Il processore, secondo me, riprenderà grande importanza nel momento in cui l'upscaling continua a migliorare. E risoluzioni che prima non avevano tanti fps, ora ce li hanno e quindi magari si passerà da un 60 a un 180 fps che comunque vadano processati dal processore, perché sono fps veri. Però il concetto è che all'aumentare degli fps aumenterà il carico del processore e moltissime recensioni non tengono in considerazione il DLSS, ma soprattutto non tengono in considerazione che DLSS 4 ed FSR 4 aumenteranno ulteriormente il potenziale di queste tecnologie. Bisogna vedere dove si spingeranno e soprattutto come i processori interagiranno con le stesse, dando ampio margine di fps anche in risoluzioni che solitamente non ce l'avrebbero come 4K e 1440p. Oltre a questo il ray tracing. Per quanto sia una tecnologia che solitamente viene abbinata a contesti della scheda video, effettivamente il ray tracing comunque influisce negativamente sul processore in termini di impatto. Non è una roba assurda, ma comunque se usate il ray tracing, se fate proprio un test 1 a 1, potrete notare in maniera un po' empirica che il vostro processore aumenta il carico. E sulla questione del carico, ultima parentesi che secondo me è molto importante da capire. Nella maggior parte delle recensioni si parla di quantità di fps, di qualità dell'esperienza, di consumi, di temperature, ma una cosa che manca, perché è molto complessa da analizzare ci tengo a dire, è secondo me l'analisi qualitativa e quantitativa dell'utilizzo dei core della CPU in assoluto. Ovvero il fatto che se io vi faccio vedere questa schermata di un gameplay qualsiasi, voi vedete che il processore ha una determinata percentuale di calcolo che è quella media tra tutti quanti i core all'interno del processore inclusi anche i thread. Quindi sappiamo che il processore sta lavorando per esempio al 60-50% medio per mantenere quella determinata performance. Quello che non sappiamo però è come stiano lavorando i core distribuiti. Cioè magari questo 60% è fatto da 8 core che stanno lavorando al 60% e allora lì sarebbe ok, perfetto, anzi è una prestazione veramente incredibile, magari fosse così. Ma in molti casi in realtà queste percentuali sono fatte da core che stanno lavorando tantissimo e da core che non stanno facendo niente. Letteralmente non vengono utilizzati in base all'ottimizzazione del gioco. Questa cosa è molto complessa, è molto difficile da analizzare, ma in realtà è uno degli aspetti principali per cui i processori nel tempo iniziano a faticare con determinate tipologie di giochi. Perché man mano che andiamo avanti con l'ottimizzazione e vengono sfruttati sempre di più 4, 6, 8 core e compagnia cantante, vedremo sempre di più processori faticare sul lungo termine. Quindi non vi dico che troverete delle grandissime differenze tra un 7800X3D e un 9800X3D, ma tra processori con un giusto salto prestazionale come quello tra il 5800X3D e il 9800X3D probabilmente a lungo termine quest'ultimo avrà dei vantaggi. Questo sempre in maniera un po' empirica ovviamente, sono dei test ripeto molto complessi che neanche Gamers Nexus fa, che penso sia la testata, con più possibilità di fare questo tipo di analisi. E infine, ultimo punto promesso, il concetto è anche la tipologia di giochi che giochiamo ragazzi. Se noi prendiamo tipo Black Myth Wukong, dalle analisi dei miei benchmark potete vedere come effettivamente questo gioco ignori completamente la presenza del processore. È fortemente GPU bound e per questo le prestazioni tra il migliore e il peggiore sono veramente molto simili e quasi non te ne importa. In 1080p, 1440p ancora peggio e 4K non ne parliamo. Praticamente il processore non esiste. Se noi prendiamo in analisi tutti questi giochi, alla Wake, Black Myth Wukong, Star Wars Outlaws, del processore gliene frega relativamente poco, specialmente in risoluzioni più alte. Ma se noi prendiamo giochi fortemente CPU bound, come Shadow of the Tomb Raider, come Hogwarts Legacy, come Space Marine 2, noteremo che a lungo termine il processore avrà dei benefici. E oggettivamente, in questo caso, il processore riuscirà, come dicevo prima, a garantire una migliore longevità nel lungo termine per riuscire a rapportarsi con questi titoli. Poi, ovviamente, tra un 7800X3D e un 9800X3D sono abbastanza conscio che probabilmente non si arriverà mai al limite dei processori prima di fare un upgrade. Cioè, sono due CPU veramente importanti, specialmente i 1440p e 4K. Poi ci sono altre tipologie di giochi, competitivi. Se su Black Ops io faccio 300fps, il mio processore ne risente fino a che quei 300fps per lui sono un peso. Se prendiamo un 7600 e un 7800X3D e li mettiamo a paragone nel gestire 300fps, probabilmente il 7800X3D avrà un margine migliore anche in 1440p se abbinato a una scheda o a un upscaling che gli permette di raggiungere questo tipo di performance, di interesse per chi gioca nell'ambito competitivo. Infine, poi abbiamo chi privilegia core count più alti o processori più potenti con abbastanza core, come per esempio l'ambito degli strategici e dei gestionali. Banalmente, se prendete The Rift Breaker, nella mia analisi della Turbo X3D Mod potete vedere come effettivamente limitare i core dei due processori abbia limitato le prestazioni in generale, così come rimuoverne l'hypertrading e cose così. Insomma, stiamo parlando di titoli che facciano uso del largo numero di core e di thread dei processori stessi, quindi dove anche gli 9, gli 7 e altri processori possano dar un forte filo da torcia a processori come il 9800X3D. Lì, anche ad più alte risoluzioni, si mantiene il fatto che la CPU abbia un ruolo importante e gestionali e strategici sono giochi praticamente esclusivi dell'ambito PC, che interessano una fetta di popolazione, magari non ampissima come Black Ops, però comunque esistente e hanno anche poca rappresentanza. Io comunque continuo a mettere The Rift Breaker e alcuni strategici all'interno delle mie suite, se possibile, in maniera da avere un'analisi anche su quello che secondo me è importante. Ad ogni modo, riassumendo questo super videone tecnico noiosissimo, immagino lasciatemi un like, un commento di iscrizione se vi è piaciuto, mi aiuterà perché penso che questo qui performerà malissimo ma ci tenevo a fare un'analisi sincera, in 1080p avrete sempre più prestazioni per il momento per quanto riguarda processori come appunto il 9800X3D. Onestamente siamo arrivati ad un punto in cui abbiamo tanti processori che performano più o meno bene per la maggior parte del pubblico. Diciamo che quello che conta è più che altro il prezzo. Se una CPU ti costa la metà ma ti fa il 10% in meno, il 15% in meno, è meglio quella. Cioè, raga, il rapporto qualità-prezzo è importante. Se una CPU ti permette di essere allocata su una piattaforma da 200€ e l'altra da 350€ perché ci sono soltanto le Z890 in giro e invece M10 ha le B650, è meglio la prima perché risparmi, perché puoi spendere di più sulla GPU che è molto più importante a salire delle risoluzioni. Ci sono varie cose di contesto da analizzare. È un po' un bias percettivo enorme che c'è per le recensioni ma appunto si affronta prendendo un'analisi molto più ampia. L'ambito del PC gaming è complesso. Tuttavia ci sono tanti strumenti con cui informarsi, tra cui le mie recensioni e quelle degli altri. Spero di essere stato chiaro. Voi fatemelo sapere con un commento se siete arrivati a questo punto. Aggiungete nel vostro commento banana. No, sto scherzando, non aggiungete niente. Aggiungete Space Marine 2 ammazza le CPU, no? Comunque noi ci vediamo al prossimo video e vi siete stati su Modern Tech. Salve!